Lavori in corso all'impianto Nicola Serafini che tra un mese esatto dovrà essere pronto per ospitare i campionati italiani cadetti di Atletica Leggera. Gino Carrozza dell'Avatori Serafini, come sta andando l'organizzazione? L'organizzazione sta andando avanti con grossi sacrifici, con grossi problemi, insomma con una serie di situazioni che le risolviamo andando avanti. È un evento che bisogna fare, è un evento che ci siamo un po' presi, è un evento che la Federazione ci ha dato e quindi lo dobbiamo portare avanti con la massima professionalità. Quindi va tutto bene e sicuramente quando sarà il momento chi assisterà a questo evento rimarrà soddisfatto. Quante squadre, quanti atleti parteciperanno e qual è l'importanza di questa competizione? Partecipano 21 rappresentative perché l'evento si chiama campionati italiani individuali e per regioni, per cui ogni regione dovrà presentare una squadra. Sono 21 regioni, la squadra è composta di 40 atleti minimo, più dirigenti e accompagnatori per cui il numero diventa elevatissimo. Però ci sono delle regioni come la Lombardia che invece di portare solo gli atleti 40 persone ne porteranno 130, hanno già telefonato e hanno chiesto un albergo molto vicino qui all'impianto. Quindi in quei giorni, se fate la somma delle persone, delle squadre, dei dirigenti che saranno presenti, in quei giorni ci sarà veramente un movimento notevolissimo. Per quanto riguarda la rappresentativa abruzzese, qual è il ruolo che potrà recitare? La rappresentativa abruzzese si è già allenata su questo campo. I tecnici della nostra regione hanno scelto di venire qui a Sulmone e di fatti la scorsa settimana un bel gruppo di atleti è venuto per provare un po' le pedane, le piste e tutto quello che può essere utile appunto per questa manifestazione. Il ruolo che può recitare io penso che sia un ruolo molto importante perché gli atleti dell'ultima generazione, a meno in Abruzzo, non sono da meno a quelli delle altre regioni e quindi sicuramente faranno una grande prestazione. Saranno tre giornate non solo di gare ma anche di eventi collaterali, è vero? Esatto, questo poi lo diremo in conferenza stampa. Adesso annuncio solamente che la manifestazione vera e propria è quella agonistica, però quest'anno all'atere di questa manifestazione abbiamo anche voluto mettere la parte culturale che parte dal lunedì 5 e andrà avanti naturalmente fino al giorno della cerimonia di apertura che ci sarà il giorno 9. Poi il 10 e l'11 ci sono le gare su questo bellissimo impianto che voi avete visto si sta tutto rimettendo in ordine e di fatti c'è una ditta piemontese che sta ridisegnando tutta la parte delle corsie e dei lanci in modo che quando verranno qui gli ospiti dell'Utitalia senza altro ci applaudiranno e ci faranno dei complimenti perché Sulmona è in grado di mettere in piedi dei grandi eventi.